Come ente Parco Nazionale del Vesuvio già alcuni mesi fa abbiamo deciso di dar vita al progetto Plastic Free. Lo abbiamo fatto attraverso una delibera del Consiglio Direttivo e stiamo già cominciando a mettere in campo delle azioni concrete come gli eventi di Vesuvius Plastic Free e oggi invece liberiamo dalla plastica monouso la nostra segna. Gli uffici del parco sono da oggi Plastic Free, abbiamo distribuito le borracce con il logo del Vesuvio ai dipendenti del parco, risparmieremo 14.000 bottiglie di plastica e 3.000 kg di CO2 derivanti o dalla produzione della plastica o dal trasporto delle bottiglie. Quindi un intervento per l'utilizzo dell'acqua pubblica, la riduzione dell'impatto ambientale e l'azzeramento della plastica monouso. Acquatec celebra oggi insieme al Parco Nazionale del Vesuvio il Plastic Free. Noi come azienda abbiamo effettuato una serie di interventi tecnici a partire dalla sanificazione delle cisterre contenute all'interno dell'enteparco e l'installazione di tre di questi erogatori che microfiltrano l'acqua di rete pubblica e la restituiscono con una templice tipologia. Acqua liscia a temperatura ambiente, acqua liscia refrigerata, acqua frizzante refrigerata. L'obiettivo è chiaro, è quello di disincentivare l'utilizzo di acqua immuttiata in plastica a favore dell'acqua di rete.